C'è chi da un'altra parte del mondo, da un calcio ad un pallone rotondo, che si sa in agli amici, sta o male, ma strani e questi non mi sembrano male. E i dei bambini che giocano al pallone. Quando mai si fida in televisione, i stati pieni rimangono, il telefonista è sempre lo stesso. Io credevo che un giocatore, si sente concentrato solo sul pallone, invece questi hanno l'unico e il bel bel, ma l'avversario in quel momento dov'è? Palla al centro.